Ancora insieme, orgoglioso di poter indossare questa maglia per il settimo anno consecutivo, pronto a ripartire con tanto di clessidra, un pallone e un cuore. Poche parole, un grande amore, quello che Marco Milella ha ribadito nei confronti del barletta calcio, divisa che ha iniziato a indossare nella stagione 2017-18 e che avrà sulle spalle, anche nell'annata sportiva che verrà. Il tuttocampista originario di Napoli, ma ormai barlettano d'adozione, ha usato i suoi canali social per annunciare il rinnovo del contratto con il club bianco-rosso e lui, il quarto giocatore confermato nell'organico di Ciro Ginestra dopo Sante Russo, Matteo Di Piazza e Antonio Cafagna, sarà chiamato a comporre l'ossatura di una squadra rivoluzionata che non dovrà far rimpiangere quella dell'edizione 2022-23, capace di arrivare al quarto posto in semifinale play-off. Un gruppo veramente forte, fatto di fratelli, bello, sincero e leale, come lo definiva lo stesso Milella, fine stagione sui social. Conosce meglio di tutti o quasi le sfumature dell'ambiente bianco-rosso Milella, che i compagni di squadra chiamano ispanico, in omaggio al gladiatore interpretato da Russell Crowe. Mediano, trasformato in terzino, oltre 150 presenze in prima squadra, è arrivato a barletta da carneade e ora incarna il legame identitario tra città e gruppo. Per ribadire il concetto occorre riavvolgere il nastro di qualche mese e tornare al minuto 82 di Brindisi-Barletta. Partita 20 e rimonta dalla formazione all'epoca allenata da Francesco Farina il 13 novembre del 2022. Minuto 82, la maglietta del numero 2 bianco-rosso si strappa in un contrasto di gioco e l'arbitro Marra lo invita a uscire dal campo. Milella accetta malincuore, si becca i fischi del pubblico di casa, richiama l'attenzione della panchina, chiede del nastro adesivo e torna in campo con quella maglia ricucita in maniera artigianale, pronto a riprendere il suo posto in difesa e a festeggiare tre punti pesantissimi, immagini che sintetizzano l'essenza del legame tra giocatore e barletta, da intendersi come piazza, maglia e tifoseria. Un rapporto totalizzante che Milella ha costruito negli anni con le migliori armi che conosce sul rettangolo verde, carattere, grinta, sacrificio e volontà di dare tutto per il club, anche accettando una metamorfosi tattica e tecnica ma garantendo sempre all'interpretazione del ruolo, esperienza, fisicità e la giusta dose di malizia. Nel 3-5-2 di Ginestra potrebbe giocare tra i tre di difesa, da laterale o da mezzala, ma poco conterà la certezza e che Milella risponderà inseguendo nuovi record di presenze con il barletta e sudando la maglia sempre, anche a costo di strapparla e ricucirla con del nastro adesivo, come successo in quel pomeriggio di Brindisi.